Quinta sconfitta in sette partite per il Nardò, forse la beffa più atroce per com'è arrivata. I Granata cedono alla casertana al Giovanni Paolo II e ora Ciullo rischia la panchina. Subito in avvio, in cronaca un paio di tiri pericolosi, entrambi firmati da Mengoli. Poi Mengoli si veste da assist man, serve Mariano, che però sbaglia. Annullata una rete alla casertana sullo 0-0. L'1-0 arriva alla fine del primo tempo, va Rasbeck pennella in area di rigore, Porcaro arriva prima di tutti e di testa porta in vantaggio i Granata. Il Nardò va vicinissimo al raddoppio con lo stesso Van Rasbeck, questa volta però direttamente su calcio d'angolo. Cristaldi sfiora il gol a inizio ripresa, poi anche Cancelli vicino alla rete, la palla viene salvata sulla linea. Negli ultimi dieci minuti però la casertana ribalta tutto, Favetta di testa trova impreparato il portiere Granata su cross di Mansur e 1-1 passano quattro minuti e Felega fa anche il 2-1, ribaltone finito. A fine gara il presidente del Nardò Donadei annuncia sono ore di riflessione, sembra più che in bilico. Al momento la posizione di Giullo.